La firma è una firma doverosa, doverosa perché bisogna sostenere un magistrato che finalmente ha avuto la forza, la coscienza di dire le cose come stanno, di dire la verità e chiaramente noi come popolo dobbiamo sostenere, come forza politica, come tutto, bisogna sostenere magistrati che da sempre, a partire da Falcone e Borserini fino ad oggi, hanno quella forza, quella coscienza di poter dire le cose come stanno senza nascondersi da un dito e soprattutto senza dimenticare, senza preoccuparsi di quello che potrebbe succedere dalle forze politiche, quello che potrebbe essere un trasferimento, altro tipo di azioni, quindi massima solidarietà, massimo sostegno a zucchero che ha avuto veramente la forza e il coraggio di dire le cose come stanno e realmente cercare e tentare di bloccare questo flusso di migranti per me è diventato assolutamente inconcepibile e insopportabile.